se posso quando posso se riesco vi voglio dare belle notizie e questa rassegna stampa la cominciamo con una bellissima notizia 20 minuti lunghissimi poi il cuore ha ripreso a battere una storia bella che ieri è emersa grazie a una comunicazione del soccorso alpino e cominciamo così la rassegna stampa di radio piave in blu di oggi condotta come sempre dai giornalisti dell'amico del popolo luigi guglielmi al microfono buongiorno a tutti 20 minuti interminabili quelli trascorsi da sebastiano zaginnell che aiuta la compagna beatrice de paoli nella conduzione del rifugio mulaz giuseppe volpi che si trova tra i comuni di canale e falcade 20 minuti che sono stati però importanti dice il gazzettino sto leggendo dalle pagine di belluno del gazzettino 20 minuti che sono stati importanti per salvare la vita di una turista tedesca di 61 anni colpita da malore mentre andava a fare la doccia in rifugio sono stati minuti veramente interminabili spiega sebastiano perché per quanto tu sia preparato ad affrontare certe situazioni quando te le trovi davanti non sai mai se sei capace di gestirle fortunatamente questa volta è andata bene il defibrillatore che da due anni abbiamo al rifugio questa volta è servito veramente per poter mantenere in vita questa signora allora diciamo una cosa il defibrillatore è uno strumento importantissimo per salvare la vita delle persone se sono in arresto cardiaco ha anche un dispositivo che prima di far entrare in funzione prima di operare la defibrillazione valuta se veramente la persona sia in arresto e se abbia bisogno del defibrillatore quindi il defibrillatore viene usato solo nelle situazioni estreme e le riconosce la macchina stessa le riconosce come situazioni estreme questa era una situazione estrema questa donna era in arresto cardiaco sarebbe morta di lì a poco andiamo avanti con la lettura aveva prenotato al rifugio per trascorrere la notte lei e il suo compagno racconta sebastiano quando è arrivata ha chiesto le chiavi della doccia gliele ha consegnate ha fatto poi per salire le scale a un certo punto abbiamo sentito tutto un frostuono siamo saliti abbiamo trovato la donna a terra fortunatamente si è sentita male qui cioè in rifugio non 200 metri più sotto voglio dire dove abbiamo potuto intervenire subito se il malore l'avesse colpita in doccia sarebbe stato molto più complicato in quanto probabilmente si sarebbe chiusa all'interno sarebbe stato necessario buttare giù la porta perdendo minuti preziosi il rifugista prosegue nel racconto di quei concitati minuti mentre la mia compagna è andata a prendere il defibrillatore io ho iniziato a praticarle il massaggio cardiaco e poi ho messo in pratica tutte quelle cose che avevo imparato partecipando a un corso di primo soccorso organizzato dal cai di feltre che era stato condotto dalla dottoressa lara pilotto che in questo caso deve ringraziare perché il suo insegnamento devo ringraziare perché i suoi insegnamenti sono stati in questo caso importanti oltre al massaggio ho praticato cinque scosse alla signora e questo mi ha permesso di consegnare allo staff sanitario del suem giunto prontamente in elicottero la signora ancora in vita perché quando è arrivato l'elicottero in quei 20 minuti la signora nel frattempo il cuore era stato ricominciato a battere sono stati momenti per me veramente di grande preoccupazione spero comunque che quello che ho fatto sia stato utile dunque l'ultimo paragrafo dice dice così la prevenzione l'ultimo paragrafo di questo capitolo il defibrillatore al rifugio mulas è arrivato nel 2020 ed è uno strumento che specialmente nei rifugi di alta quota dovrebbe esserci sempre il defibrillatore spiega sebastiano zagonel che è anche guida alpina dunque sebastiano zagonel all'inizio abbiamo detto sebastiano zaginel mi sa che il nome giusto è sebastiano zagonel devono aver sbagliato sul gazzettino a scrivere all'inizio dovrebbe trovarsi il defibrillatore in ogni rifugio ma io penso in ogni struttura ricettiva e tutti i gestori dovrebbero fare dei corsi per saperlo usare in quanto spesso avere un defibrillatore saperlo usare veramente può salvare la vita delle persone questo defibrillatore è stato donato dalla famiglia di un mio amico della guardia di finanza istruttore di roccia un ragazzo che stava bene e che purtroppo è morto per un malore perché non si trovava nelle vicinanze un defibrillatore la sua famiglia ha voluto donare a tutti i rifugi che gravitano nel gruppo delle palle di san martino un defibrillatore che in questo caso è stato importantissimo io come guida alpina ho effettuato durante l'addestramento dei corsi di primo soccorso che sono basilari per chi opera in montagna ma ho voluto anche migliorare questa mia conoscenza frequentando altri corsi perché veramente è necessario essere preparati quando si lavora in alta montagna con tanta gente ma bisognerebbe dire che bisognerebbe essere preparati dappertutto perché se capitasse a me io parlo per me di trovarmi in una situazione di questo genere io pur avendo seguito qualche corso sulla sicurezza eccetera non so non credo che saprei usare un defibrillatore e la mia impressione ditemi se sbaglio commentate anche qui sotto su facebook se ci seguite su facebook la mia impressione è che probabilmente queste questi elementi di base queste conoscenze di base dovrebbero essere trasmesse fin dalla scuola fin da giovani cioè la possibilità che ciascuno di noi possa diventare importantissimo essenziale per mantenere in vita una persona che si trovi con un infarto è importantissimo agire subito ecco queste competenze dovrebbero essere trasmesse a tutti se possibile a quante più persone a quante più persone possibile no quindi bella questa notizia sono contento di avervela potuta di averla potuta dare l'altra buona notizia la cerco qua in prima pagina del gazzettino sul nazionale e il gazzettino fa benissimo a metterla in prima pagina e a metterla in rilievo sul nazionale luxottica e armani alleati per altri 15 anni questa cosa significa moltissimo perché nella storia di luxottica la il matrimonio con armani che poi si era rotto ma poi è ricominciato con con convinzione da tutte e due le parti cioè leonardo del vecchio e giorgio armani in persona i due presidenti delle due rispettive aziende bene quel matrimonio portò enormi vantaggi a tutte e due le parti e luxottica praticamente fece sbarcare gli occhiali nel mondo della moda e del lusso e dell'altissima qualità grazie al legame con armani che voleva occhiali di un determinato tipo e armani d'altra parte aumentò le vendite dei propri prodotti con i propri marchi grazie anche agli occhiali l'accordo con armani significa nel pacchetto di luxottica introiti sicuri importanti quindi questa è un'ottima notizia direi semplicemente per l'industria italiana ecco di due colossi italiani completamente italiani perché luxottica la componente di luxottica ex luxottica guida essi lux essi loro luxottica e giorgio armani che un marco italiano insomma che si mettono che confermano la volontà di andare avanti insieme resta una bella notizia che ci vede protagonisti anche come bellunesi no esteso al 2037 vi leggo il lancio il contratto di licenza esclusiva milleri che il presidente amministratore delegato di essi loro luxottica orgogliosi dell'intesa essi lux e giorgio armani estendono di 15 anni l'accordo di esclusiva per lo sviluppo la produzione la distribuzione a livello mondiale degli occhiali con i brand della maison della moda milanese avviato a giugno 2012 ieri mattina i due gruppi hanno ufficializzato in modo congiunto di prolungare un patto che scavalcando le generazioni dimostra come questi accordi impegnino le aziende e non più le persone che pure hanno avuto un ruolo attivo nella vicenda siamo estremamente orgogliosi della nostra storia con il gruppo armani e della magia che abbiamo creato insieme ha commentato francesco milleri presidente del gruppo italo francese e della delphine la holding degli eredi del vecchio nel corso della mia carriera ho sempre costruito collaborazioni e accordi a lungo termine con partner fidati ha commentato l'estensione dell'accordo di 15 anni giorgio armani in persona dunque in prima pagina finisce anche la foto del paraghiaccio di di alleghe chiusura già decisa il caro bollette scioglie il paraghiaccio chiude alleghe in forse tai di cadore e forno di zoldo rischia anche cortina la notizia finisce in prima pagina sul nazionale in prima pagina sul nazionale viene lanciato anche oggi c'è molto belluno sul nazionale viene lanciata anche la questione del bob a cortina ci sono 1185 firme contrarie raccolte a cortina contro quindi contrarie alla pista di bob scusatemi sono rivolte a thomas buck il presidente del comitato olimpico internazionale quello che aprì quella volta la busta con il nome di cortina per le olimpiadi del 2026 sono rivolte a lui e gli chiedono di spostare le gare di bob a innsbruck voi ricorderete che comunque la se fosse necessario adattare la pista di innsbruck servono comunque molti molti soldi da avversare da parte dell'italia all'austria perché metteremo a posto una pista austriaca senza averne alcun ritorno noi perché non avremo una pista messa a posto ieri zai ha reagito ha reagito molto forte a questa comunicazione se volete girando la patata bollente ma secondo me ha fatto bene visti i presupposti direttamente a thomas buck che in passato aveva anche così il fatto delle affermazioni non proprio chiare sulle sue intenzioni riguardo al bob lasciando un po aperta la possibilità che si trovassero anche altri tipi di soluzione adesso zaya dice basta sia lui a dire se il bob va fatto a cortina o se va fatto a innsbruck perché siamo stufi di tutti questi tira e molla e non ha torto perché se dal comitato olimpico internazionale venisse un'indicazione chiara dopo è logico che il comitato lascia fare agli stati che organizzano le olimpiadi però la voce del liceo sarebbe importantissima ecco se arrivasse un'indicazione chiara probabilmente si metterebbe fine alle polemiche visto che i tempi stringono e probabilmente la melina fa anche il gioco di chi non vuole questa pista zaya ieri ha ricordato nella sua nota che se le olimpiadi sono state assegnate a cortina è anche stato proprio in virtù della pista di bob perché il dossier presentato si riferiva proprio a questa antica tradizione risalente all'inizio del novecento di questo tipo di sport a cortina che aveva portato già importanti investimenti e anche grossissime soddisfazioni alle olimpiadi del 56 quindi proprio il bob come una specificità degli sport invernali praticati a cortina questi campi da ghiaccio che poi sono quelli che hanno regalato alle ultime olimpiadi le soddisfazioni enormi anche sul sul curling no quindi campioni dello sci pensiamo a ghidina ma non solo di sicuro insomma pensiamo al salto eccetera ma ma a cortina nell'ambito di cortina si sono espresse anche altre specialità e il bob senz'altro ha una parte principale da principale no quindi zai giustamente dice guardate il bob è caratteristico di cortina ci sono i soldi lo vogliamo fare facciamolo e se no diamo i soldi a innsbruck e lo faremo a innsbruck questa è la sostanzialmente la posizione di zaiano allora io adesso sempre qui sul gazzettino salto la parte nazionale perché insomma andate a vederla acquistando il giornale vi segnalo pagina 14 appunto il paginone dell'economia che si apre proprio con la notizia essi lux armani patto al 2037 ripeto si tratta di un importante annuncio per l'economia italiana ma si tratta di un importantissimo annuncio anche per noi per la nostra luxottica i due gruppi hanno esteso di 15 anni l'accordo di licenza esclusiva per produrre occhiali griffati milleri siamo saremo una società sempre più integrata e non stiamo trasferendo i costi sui consumatori perché anche questo va detto luxottica in questo momento continua ad essere un esempio a tutto a tutto tondo allora andiamo a vedere la prima di belluno che ancora non vi avevo mostrato eccola qui bollette rischia un'impresa su 10 e a proposito di aziende vedremo che anche il titolo di apertura del correre delle alpi è dedicato all'economia il sondaggio tra le piccole imprese di confartigianato belluno ieri avete già letto ieri mattina avete già letto questa notizia sull'amico del popolo su www.amicodelpopolo.it fa scattare l'allarme futuro contraddistinto dall'incertezza sei associati su dieci hanno registrato aumenti superiori al 50 per cento nell'ultima fattura e 1 su 3 ha pagato il doppio 1 su 10 poi aggiungo io era tra i dati della comunicazione di confartigianato 1 su 10 teme di dover chiudere pausa pausa pranzo più breve fornai e pasticceri aperti solo mezza giornata massima flessibilità per risparmiare energia sono alcuni passaggi dell'agenda austerity di confartigianato belluno il quadro uscito da un sondaggio realizzato interpellato un centellaio di aziende ha dato esiti inquietanti un amico o piccola impresa su 10 rischia di dover chiudere vi dicevo un attimo fa per effetto delle bollette dell'elettricità il 57 per cento delle imprese ha registrato aumenti superiori al 50 per cento nell'ultima bolletta e addirittura il 36 per cento ha ricevuto un conto superiore del 100 per cento rispetto a un anno fa sono cifre insostenibili no però in controtendenza cosa succede telios in provincia non abbiamo solo luxottica occhialeria continua ad assumere altri 120 posti telios sbarca da protagonista alla mostra del cinema di venezia e annuncia 120 nuove assunzioni la squadra di telios si è reafforzata con circa 300 nuove assunzioni lo scorso anno con ulteriore 370 da inizio 2022 ha spiegato il ceo zanardo l'amministratore delegato dunque c'è stato un incontro a longarone importante per decidere come sarà fatta dove correrà la tangenziale di longarone e il sindaco nonché presidente della provincia roberto padrin butta lì che gli appalti con un certo ottimismo si potrebbe immaginarli già per il 2023 cioè l'anno prossimo olimpiadi 2026 il tracciato della nuova alemagna la tangenziale di longarone correrà sulla ghiaia del piave e il lancio ieri la conferenza dei servizi si è riunita per approfondire il tracciato della variante di longarone da circa 300 milioni di euro tra le novità l'intervento di sghiaiamento del piave per ridurre il rischio idraulico e utilizzare i materiali di risulta per la costruzione ora io immagino l'ingegner dal paos dell'università di padova nostro bellunese al pagotto che ha sempre denunciato l'eccessiva facilità con cui si usano gli alvei dei nostri fiumi immagino cosa possa dire non voglio attribuire i pensieri che non ho raccolto da lui di fronte a queste notizie che esprimono la volontà di far correre la strada lungo le ghiaie del piave è vero che se ci sarà uno sghiaiamento il fondo dell'alveo sarà abbassato quindi ci sarà più spazio per l'acqua che non vada a esondare ea riempire il resto però ricordo bene certe relazioni del paos molto molto perplesse anche sull'area industriale di longarone che è stata tutta costruita in alveo praticamente prima o dopo i conti purtroppo di solito si fanno audi a cortina tutti gli indagati per la pubblicità nel mirino della procura le pratiche firmate da segretari e dirigenti dal 2017 bus pieno di studenti invalido lasciato a terra dunque queste questa notizia si riferisce alla zona di santa giustina ieri le corriere che si sono fermate a formeganne erano strapiene e benché l'autista abbia cercato di farmi far posto in un primo momento i ragazzi che occupavano il mezzo erano talmente stipati da non permettermi di salire mi sono visto chiudere la porta in faccia sono rimasto a piedi questa la testimonianza della persona rimasta giù serene del grappa cinque lupi nella stalla della malga a farne le spese anche il cane da pastore cinque lupi dentro la stalla della malga paura per i lupi l'ultimo episodio è accaduto martedì sera e giuseppe ilenia curto che gestiscono la malga pradalon sul monte tomatico in comune di serene a loro è successo cinque predatori sono entrati nella stalla hanno aggredito il cane da pastore provocandoli profonde ferite alla pancia e alle zampe posteriori ci sono le foto del cane e delle cure che gli sono state prestate nel rifugio così osservato la donna dall'infarto c'è il lancio in prima cade nel bosco purtroppo ferito grave un fungaiolo di 89 mi pare che ne avesse meno però 83 dice l'articolo questo signore di 83 anni di santa giustina è grave perché in comune di san gregorio nelle alpi è scivolato su un ripido pendio e si è fatto male si è fatto male è stato portato via con l'elicottero allora io per quanto riguarda il gazzettino mi fermo vi faccio vedere ora la prima pagina invece del corriere delle alpi vi dicevo che l'apertura era sulle aziende per questo titolo senza operai specializzati 7 aziende su 10 cosa vuol dire vuol dire che le imprese bellunesi dice il sottotitolo la firma è di dalmas poi del pezzo le imprese bellunesi sono sempre più eccellenti hanno bisogno cioè di figure specializzate esigono figure professionali altrove non richieste questo è un ottimo segno perché vuol dire che la nostra industria bellunese produce qualità e ha bisogno di qualità nelle lavorazioni l'operaio generico non ci basta perché noi puntiamo alla qualità questa è una cosa bellissima però cosa succede non si trovano gli operai specializzati e la voce dall'industria è questa qui si sconta la scarsa lungimiranza nel creare percorsi formativi adeguati cioè nella scuola non probabilmente è mancata una collaborazione tra scuola e industria ma insomma non si è riusciti nella scuola a mettere in piedi dei percorsi adeguate alle aziende che ci sono sul territorio e alle loro esigenze e questo è terribile insomma perché ci sarebbe bisogno di lavoratori c'è facilità a trovare lavoro anche per chi non ha voglia di studiare tanto però servono specializzazioni che in provincia non si trovano anche qui continuano gli approfondimenti sull'inchiesta sulle Audi esposte le autovetture esposte in centro a cortina precipita nella scarpata grave anziano fungaiolo dicevamo 83 anni di santa giustina la foto centrale riguarda la pista da bob c'è la foto della vecchia pista comitato civico 1185 firme al cio contro la pista cioè il comitato olimpico internazionale e zai replica olimpiadi a cortina anche grazie al bob cioè se le abbiamo portate a cortina proprio anche grazie al bob thomas bach presidente del cio sarà accolto in italia da una lettera del comitato civico cortina sottoscritta da 1185 persone vi dicevo con cui si chiede che non siano fatti i lavori per la nuova pista da bob l'opera viene giudicata insostenibile sotto l'aspetto economico ma anche sotto quello ambientale le zaia l'ha presa molto male dice il lancio a me non sembra che l'abbia presa molto male anzi c'è chi non vede l'ora di mettere nell'angolo zaia con questa cosa qui per costringerlo a rimangiarsi la decisione di fare a cortina in realtà zaia furbo ha detto ma scusate allora facciamo parlare il cio così la smette con le sue ambiguità e bach dica definitivamente se deve essere fatta a cortina o a inspero che vedremo caro bollette l'allarme fism cioè delle scuole private le scuole più piccole chiuderanno l'allarme lo stato non ci ascolta a gennaio il rischio di chiusura è concreto approfondisce forzina pagina 17 feltre la stazione dei bus non si sa ancora quando i lavori saranno conclusi nasce a salce la casa del vaccino che aprirà il 3 ottobre sapete che sono stati fatti importanti lavori anche con l'aiuto di luxottica e poi il taglio basso è solo una cosa che dispiace proprio no perché ormai da parecchi anni da una dozzina d'anni si correva la belluno feltre run una corsa lunga perché sono 30 chilometri quest'anno viene annullata perché ci sono pochi iscritti peccato questa cosa qui una decisione dolorosa annunciata ieri pomeriggio sulla pagina facebook della manifestazione domenica 2 ottobre non sarà disputata la belluno feltre run sarebbe stata la tredicesima edizione ci sono state troppo poche iscrizioni per giustificare lo sforzo organizzativo peccato è andata così allora io vi saluto qui vi ringrazio per l'attenzione un buon giovedì 15 settembre da luigi guglielmi ciao a tutti